Assolutamente sì, se ovviamente le attività di local search marketing sono fatte in maniera appunto ottimizzata. Cosa intendo per attività di local search marketing ottimizzata? Intendo andare a lavorare su tutti quei segnali che vedremo poi appunto dopo, come appunto lavorare sulle recensioni, lavorare sulle citazioni, fare in modo che l'ecosistema e quindi tutte le citazioni che fanno riferimento ad una determinata attività siano consistenti tra loro, cioè univoche, lavorare appunto sui contenuti come dicevo prima, lavorare anche sui segnali di SEO tradizionale. Se si svolgono tutte queste attività che sono attività propriamente di local SEO, le attività fisiche, quindi i punti vendita fisici sicuramente possono beneficiarne e possono accrescere quello che è chiamato comunemente il drive to store, cioè accrescere il numero delle persone che raggiungono i punti vendita fisici. Grazie a tutti! Grazie a tutti!